Book 2 Dove sono gli articoli da ufficio? Ho bisogno di buste e carta da lettere. Ho bisogno di penne e pennarelli. Dove sono i mobili? Ho bisogno di un armadio e di un comò. Ho bisogno di una scrivania e di uno scaffale. Dove sono i giocattoli? Ho bisogno di una bambola e un orsacchiotto. Ho bisogno di un pallone e degli scacchi. Dove sono gli attrezzi? Dove sono gli attrezzi? Dove sono gli utensili? Ho bisogno di un martello e di pinze. Ho bisogno di un martello e di pinze. Ho bisogno di un trapano e di un cacciavite. Ho bisogno di un trapano e di un cacciavite. Dov'è la gioielleria? Dov'è la gioielleria? Dov'è la gioielleria? Ho bisogno di una collana e di un braccialetto. Ho bisogno di una collana e di un braccialetto. Ho bisogno di un anello e di orecchini. Ho bisogno di un anello e di orecchini.